Appuntato, io certi colleghi non li capisco proprio. Maresciallo, con chi avete litigato? Non ho litigato con nessuno, per l'amor di Dio. Sto parlando del collega Pirozzi. Pirozzi? Quello che si è spostato due anni fa e ancora non devono avere bambini. Bravo! E beh? Hanno adottato un bambino. Ua, sono contenta! Sono contenta. Hanno adottato un bambino cinese. Beh, che fa? Un bambino cinese. Maresciallo, i bambini sono tutti quanti uguali. Oh, è cinese, è giapponese, è giallo, è rosso, è verde. I bambini sono uguali. Ma dove sta il problema? Dove sta il problema? Appuntato. Quello mo' c'ha due mesi. E si sa, i bambini a due mesi non parlano. Eh? Ma quando comincerà a parlare? Ma chi lo capisce a quello?